Allora, diretta, diretta, diretta karaoke di venerdì 2 gennaio, canzone mai fatta, è la prima volta che proviamo questa canzone, aspettiamo un po' un attimo che arriva in diretta, eccoci, vabbè, è venerdì, tutti staranno fuori, aspettiamo, diretta Facebook, karaoke, vabbè, comunque io poi dopo ho trovato un programma per poterla rimettere su YouTube, perché poi la voglio mettere su YouTube, e quindi partiamo adesso, allora, ok, ci sono momenti che passano in fredda, tempo che vola, sa di sigaretta, ci sono momenti che pensi alla vita, è un che è proprio finita, e ti viene da vivere, e ti viene da piangere, e ti viene da prendere un treno, andare a mancuro e lasciare tutto com'è, che qui non è facile, ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta è quello che senti, è sentire com'è, sentire com'è, come è, come è, come è, come è, con i suoi segreti sorrisi, gli inganni, come è, Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che non si ferma mai, sì, non si ferma mai. E ti viene da vivere, e ti viene da piangere, e ti viene da provarci ancora, provare a lottare e dare il meglio di te. Che qui non è facile, ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta è quello che senti e sentire com'è. Com'è straordinaria la vita, com'è che ti fa credere, amare e gridare. Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che non si ferma mai, sì, non si ferma mai. Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti ritrovi all'inferno. Com'è straordinaria la vita, che un giorno ti senti come in un sogno e poi ti senti come in un sogno e poi ti senti come in un sogno. Grazie a tutti.